Non è serata, il nostro gioiellino contro tutto, la nuova Peugeot 106, la nuova 106, è bellissima, non ci credo, almeno ci date uno strappo a casa, guarda qua, senti come va, ci siamo, questa è la casa, rivincita, nuova Peugeot 106, perché sai come sei, da 15 milioni 950 mila lire e finanziamenti senza anticipo.